La condizione femminile in Afghanistan al centro dell'iniziativa promossa da CGL, Cisle, Will, Dilecco con le rispettive categorie dei pensionati in occasione della giornata internazionale della donna. Dalla lettura di poesia alla proiezione di videoimmagini, dall'ascolto di musica tradizionale alle opere del gruppo artistico Timarete fino alla testimonianza diretta di una giovane attivista afghana. Nella mattinata dell'8 marzo i partecipanti e alcuni studenti delle superiori hanno avuto la possibilità di approfondire la situazione di una terra martoriata dalla violenza, dove le donne lottano per la libertà e la loro emancipazione. Quest'anno abbiamo voluto aprire uno sguardo a livello internazionale per il tema che ci ha colpito ormai da mesi che è il ritorno dei talebani in Afghanistan, pertanto le donne che hanno dovuto ancora una volta tornare in clandestinità e lottare appunto per i loro diritti minimi. Abbiamo chiesto la collaborazione a CISDA, che sarebbe l'associazione che da oltre 40 anni segue le donne afghane, collabora con Raua e Auca, che sono proprio associazioni sul territorio afgano. Abbiamo con noi Cristina Rossi, che è la relatrice dell'iniziativa, poi Leonora De Pascalis, che presenterà le poesie landai delle donne Pashtun. Saranno presenti anche delle scuole. Sì, abbiamo voluto coinvolgere in questa iniziativa gli studenti degli istituti superiori. Abbiamo trovato l'adesione dell'Istituto Rota di Calozio Corte. Pensiamo che sia opportuno tutte le volte che noi proponiamo delle iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche femminili, della libertà, dei diritti, che le scuole siano con noi. Questo per noi è prioritario. Perché il sindacato decide di fare un'iniziativa sull'Afghanistan? Perché il sindacato ha un ruolo, ha un ruolo di difesa della libertà, della democrazia. Dove non c'è libertà per le donne non c'è democrazia. Uno sguardo internazionale in questi giorni è doveroso anche per quello che sta accadendo in Ucraina, dove le donne sono quelle che si stanno sobbarcando il peso della fuga con i bambini, con gli anziani. Io credo che uno sguardo internazionale sulla libertà delle donne, sulla libertà di scelta delle donne, sia fondamentale sia a ruolo anche del sindacato come corpo intermedio e come corpo portatore di democrazia e legalità. Grazie a tutti.